Da giovedì 30 marzo a domenica 2 aprile, i nostri tre canali, non saranno disponibili, e faranno di già una pausa, perché per le altre cose in vita reale. Mentre da lunedì 3 aprile, i nostri tre canali, saranno di nuovo disponibili con nuovissimi video. Ah, e grazie di nuovo a tutti per tutte le vostre richieste come già detto. Ciao a tutti alla prossima, e mi raccomando, iscrivetevi ai nostri tre canali, attivate la campanella, e mettete mi piace ai nostri video immediatamente. Comunque, ciao!